Vediamo subito come accedere a Business Source Complete. Business Source Complete è una banca dati in abbonamento. Per accedervi dobbiamo entrare attraverso il sito della biblioteca di Ateneo. Entriamo dunque nel sito della biblioteca www.biblio.unimib.it Nella sezione ad accesso rapido troviamo Metabib, biblioteca digitale. Il portale attraverso il quale entriamo nelle risorse elettroniche della biblioteca. Possiamo accedere alle banche dati e scaricare gli articoli anche dall'esterno della rete di Ateneo, ad esempio da casa propria. Alla pagina accesso da casa alle risorse elettroniche trovi tutti i dettagli sull'accesso remoto. In modo più veloce quindi per accedere a Business Source Complete è entrare in Metabib. Selezionare Trova banche dati E digitare Business Source Complete Oppure andare sotto la B dove la troviamo Business Source Complete da Epsco La selezioniamo Siamo nella pagina delle banche dati che ci vengono fornite da Epsco Selezioniamo Business Source Complete Ecco l'home page della banca dati dove di default viene presentata la ricerca avanzata Ecco l'home page della banca dati che ci vengono fornite da Epsco